Ciao, è un piacere essere qui con voi. Io mi chiamo Rossella Pani e sono una maestra di connessioni angeliche. In questo video ti voglio presentare il mio prossimo corso di nove settimane online ma dal vivo dove imparerai a connetterti con i tuoi angeli, con gli angeli della coscienza amicaelica. Un lavoro incredibile, un lavoro protetto, un lavoro sicuro. Imparerai tutto sulle connessioni angeliche. Inizieremo con la lettura delle carte, quindi il primo step imparare a riconoscere i segnali che le carte ci stanno dando, i messaggi scritti delle carte ma i messaggi aggiuntivi che arrivano dagli angeli attraverso le nostre sensazioni corporee e attraverso il nostro sentire, attraverso la visualizzazione o quelli che sono i tuoi sensi, le tue capacità di percepire, di sentire, di udire gli angeli. Imparerai a sviluppare queste capacità. Se già hai dei canali aperti, questo corso ti aiuterà a potenziare le tue capacità. Ripeto, è un lavoro protetto, è un lavoro sicuro. Lavoreremo tantissimo con la preghiera e con le meditazioni e questo ti consentirà di radicare la tua energia, di essere centrato, di essere centrata e di sentire l'amore che arriva da dentro di te. Il secondo step è quello della scrittura ispirata che si differisce dalla scrittura automatica. La scrittura ispirata è una scrittura che arriva dall'anima, direttamente dal tuo sacro cuore, che ti guiderà, ti guiderà nella direzione giusta. Questi messaggi ti aiuteranno a prendere le decisioni giuste, a capire qual è lo scopo divino della tua anima, a capire qual è la direzione da intraprendere, laddove sei in confusione, laddove sei nel caos più totale. È entrando dentro di noi che troviamo le risposte, è attraverso la nostra anima che gli angeli si connettono con noi. Essi sono degli intermediari tra la nostra parte umana e la nostra parte divina. Nel terzo step noi arriveremo a una connessione diretta, un massimo livello di connessione dove riceverete dei messaggi molto chiari e precisi. E questo sarà un lavoro straordinario. Ma non finisce qui. Faremo un grande lavoro di perdono, un grande lavoro di liberazione da tutto ciò che a livello conscio, subconscio ed inconscio, vi sta impedendo di sentire, udire e percepire chiaramente la voce della vostra anima, la voce dei vostri angeli. Un lavoro incredibile che si farà attraverso una tecnica molto potente chiamata Logo Sealing. Dobbiamo capire che il perdono è necessario per aprire il nostro cuore all'amore, perché se siamo nella rabbia, nel dolore e nella sofferenza è difficilissimo accedere alle frequenze più alte. Sono frequenze opposte. Quindi se in questo momento ti trovi in un livello di crisi, di dolore, di sofferenza, di paura o di rabbia, con questo percorso che faremo insieme riuscirai a ripulire la tua energia. Ti verranno date in dotazione delle preghiere meravigliose che ti aiuteranno in questo percorso. Non finisce qui, anima meravigliosa, riceverai dei bonus, riceverai in omaggio le carte dell'arcangelo Michele, riceverai una sessione di coaching one to one con me. Alla fine di questo percorso avrai la possibilità di confrontarti con me, di farmi tutte le domande, io e te da soli, di metterti alla prova con me per vedere che livello hai raggiunto durante questo percorso. Naturalmente col tuo libero arbitro se questo ti fa piacere. In più riceverai tutte le meditazioni del corso registrate, ma anche un corso online registrato gratuito, ok? Dove praticamente ci saranno delle le lezioni molto interessanti. È un corso online sulle connessioni angeliche, quindi per fare un po' di ripasso. Ma non solo, tutte le lezioni che noi faremo insieme in queste nove settimane verranno registrate e rimarranno con te per sempre. Quindi questo corso ti dà la possibilità di crescere, di crescere spiritualmente, di evolvere, di elevare le tue capacità di connessione. Da me arrivano persone che non hanno mai canalizzato prima, ma arrivano persone che hanno già delle capacità straordinarie e tu non ci crederai, ma in questo corso loro cambiano perché raggiungono un livello superiore. Questo è grazie al potere dell'arcangelo Michele, da non sottovalutare. E senti nel tuo cuore la chiamata in questa direzione. Ascoltala, perché questo corso può veramente cambiare la tua vita, come l'ha già cambiata a tante persone che hanno partecipato ai corsi di connessioni angeliche. Aspetto la tua chiamata. A titolo informativo ci facciamo una chiacchierata. Mi raccomando, ci sono solo sei posti disponibili. La nuova data è il 26 gennaio 2024. Io vi saluto, un abbraccio, a presto, ciao!